Buon pomeriggio e buona domenica a voi. Allora, in settimana si sono chiuse le indagini da parte della procura di Bergamo per quanto riguarda quello che è successo in particolare in quel territorio ma anche a livello più generale durante il Covid. Io stesso ho avuto modo di commentare la chiusura di queste indagini e i gravissimi capi di imputazione nei confronti di personaggi come Conte, Speranza, Locatelli, Brusaferro e altri 15, in totale sono 19, che sono indagati. Ho commentato questi capi di imputazione e non vorrei che sia sorto così un equivoco o che qualcuno pensi cose che io non ho mai detto e quindi sarebbe sempre buona cosa ascoltare fino alla fine un video. Per carità io posso capire che non siete qui per ascoltare tutti i miei video e che il vostro tempo è prezioso ma nel momento in cui uno magari non riesce a farlo è buona cosa magari poi non commentare e non trarre delle conclusioni che poi qualche volta si possono rivelare sbagliate come in questo caso. Io nel momento in cui io ho letto questi capi di imputazione tra i quali il fatto di non aver chiuso il triangolo Bergamo-Alzano-Nembro non sto dicendo che condivido e soprattutto non sto dicendo che avrebbero dovuto fare un lockdown ancora più severo non solo in quella zona ma in tutta Italia e magari per un periodo molto più lungo nella maniera più assoluta perché vedete nel mio caso come si dice in gergo di solito si dice carta canta nel mio caso video canta voi non troverete mai un mio video del passato che afferma questo anzi chi mi conosce da molto tempo sa che io ho sempre preso come riferimento un grande scienziato perché io mi sono sempre affidato a grandi scienziati per le mie per portare avanti le mie opinioni per darvi un'idea diversa da quello che ci voleva dire e propinare il mainstream e parlo dello svedese Martin Kulldorf andate su internet trovate questo nome e andate a leggere cosa lui diceva a proposito dei lockdown tanto che non è un caso anche se lui vive negli Stati Uniti ma è svedese gli svedesi praticamente sono il paese occidentale che meno ha applicato il lockdown quindi non è una mia idea io ho semplicemente fatto la lettura qual è la cosa dove si può capire il punto di vista della procura di Bergamo ed è una contraddizione per quanto riguarda in particolare Conte e Speranza ma come qualche giorno prima nell'Odigiano applicate questo tipo di provvedimento e poi non lo fate tre giorni dopo invece a Bergamo questa è una giusta considerazione qui non si tratta di dire giusto o sbagliato ma mettere in evidenza una contraddizione gravissima che sappiamo perfettamente che è dovuta anche a ragioni di carattere economica se poi voi volete sapere il mio punto di vista ed è giusto che ogni tanto lo ribadisca perché vedete io non posso pensare che tutte le persone mi seguono da anni e che quindi siano perfettamente al corrente come io la penso io l'ho sempre pensata in maniera molto semplice anche per quanto riguarda in particolare le tanti morti che purtroppo ci sono state in quella zona in particolare nella Bergamasca la gravissima colpa è quella di non aver voluto ascoltare però prima ci tengo a dire una cosa a me personalmente ma credo anche a voi a me non interessa quali siano esattamente i capi di imputazione della procura di Bergamo e se li condividiamo tutti o no vedete per me speranza conte potrebbero anche essere incriminati andare in galera perché hanno rubato il lecca lecca un bambino non me ne importa assolutamente qual è la ragione io sono convinto che loro hanno delle responsabilità gravi se poi queste corrispondono o meno alla procura di Bergamo è rilevante l'importante che magari paghino paghino per quello che hanno fatto e allora come stavo dicendo veniamo invece all'idea che io mi sono fatto già due anni fa e che che confermo ancora adesso soprattutto per quello che ho avuto modo di leggere per gli sviluppi per i dati che a questo punto abbiamo a disposizione bastava o più che bastava sarebbe stato corretto ascoltare faccio un esempio un grande un grande professore come Remuzzi che vi ricordo sempre già nell'aprile 2020 parlava di antinfiammatori e citava in particolare l'aspirina bastava ascoltare magari anche altri altri medici che hanno curato con successo i loro pazienti vedete io talvolta ho criticato Mariano Amici ma più che altro per le sue esternazioni per la sua comunicazione sbagliata però oggettivamente i risultati non gli sono mai stati contestati e il fatto che lui abbia curato 6.000 pazienti senza avere decessi la dice lunga sul risultato del suo operato e la stessa cosa riguarda un altro medico di Ferrara Stramezzi ora stavo dicendo invece di seguire l'indicazione che ancora adesso non è stata in maniera sufficientemente enfatizzato il fatto che fosse sbagliata della vigile attesa e tachipirina bastava prendere quello che dicevano illustri professori e medici bastava anche utilizzare le terapie che c'erano per cercare di salvare la vita a centinaia se non migliaia di persone e invece si è lasciato alla vigile attesa e la tachipirina questo è la grave colpa più che il lockdown dove è anche questo evidente cioè vedete anche il lockdown se siamo due persone io ho un problema fisico io potrei anche per una semplice influenza infettarvi se noi due non ci vediamo perché voi rimanete a casa io rimango a casa mia è evidente che voi non vi infettate se rimanete tre mesi chiusi sotto una campana di vetro è evidente che non vi ammalerete qual è il problema che in questa maniera hanno distrutto l'economia hanno messo in ginocchio intere famiglie hanno fatto chiudere a molti commercianti quando c'erano assolutamente delle alternative come dimostrato in tanti altri paesi occidentali in particolare nei paesi del nord e oggi è sufficiente andare a confrontare i dati spero con questo di avere sufficientemente chiarito la mia posizione con questo vi saluto vi auguro ancora una buona domenica e ci sentiamo più tardi